La Prisma Taranto Con lui partono titolari Padura Diaz, Fiore, Alletti, Gironi, Di Martino insieme al libero Goy Le due formazioni non si scoprono nelle prime fasi del match Diversi errori per entrambe le compagini nel primo set che si rispondono punto a punto La partita è molto tattica con Taranto che riesce a difendere bene a muro ma pecca sulla battuta Castellana prova ad approfittare degli errori degli Ionici ma gli uomini di coach di Pinto Con un muro di Di Martino e l'attacco vincente di Padura Diaz portano a casa il primo set per 25-21 Regna l'equilibrio anche nella prima parte del secondo parziale Taranto riesce a scardinare la difesa avversaria ma Castellana non molla e cerca di rimanere attaccata in rosso-blu Lo scatto decisivo arriva a metà set grazie al Tarantino Alesso Fiore Autore di tre punti consecutivi tra cui Neis che porta la Prisma sul più 4 con il punteggio di 17-13 Gli ospiti regiscono ma è sempre la squadra di Vincenzo Di Pinto a mantenere le regine del gioco Gironi e compagni mantengono il gap e conquistano il secondo set per 25-21 Nel terzo tempo c'è la reazione di Castellana Avvio deciso per gli uomini di Gulinelli con un break di 2-6 che costringe Di Pinto a chiedere time-out Taranto regisce e reacciuffa i giallo-blu sul punteggio di 8 pari La Prisma prova lo strappo ma Cazzaniga opposto di Castellana Grotte trascina la compagine barese sul 2-1 Nel quarto set Taranto dimostra la sua superiorità tecnica Dopo una prima fase di equilibrio ci pensa il solito Padura Diaz a prendere per mano la Prisma e condurla alla vittoria I rosso-blu gestiscono senza problemi il punteggio e conquistano il derby di Puglia per 3-1 Il successo ottenuto contro la compagine barese rilancia quindi la squadra di coach di Pinto in classifica Che sale così a quota 14 punti con 3 partite da recuperare Il primo recupero sarà a mercoledì prossimo giorno 23 Quando gli Ionici affronteranno la delicata trasferta di Siena Nella partita della quinta giornata del campionato di Serie 2 crede in banca Seconda trasferta consecutiva con rinascita volley Lago Negro in quel di Marsico Vetele Il primo recupero sarà a mercoledì prossimo giorno